Con l'approvazione della variante al piano urbanistico comunale di Sassari, il Consiglio ha deciso che nella zona industriale, cioè predaniedda, non sarà più consentita alcuna forma di intrattenimento come spettacoli, cinema e teatro, ma neanche di centri per la cura della persona o degli animali, ambulatori o laboratori artigianali, che finora avevano trovato ospitalità nei centri commerciali. Volevano fare una città nella città, tuonato il sindaco Campus, ma ora riportiamo tutto al centro. Il Consiglio, anche nella seduta di ieri, è stato ospitato nella sala L'Angio del Comando della Polizia Locale per rispettare il distanziamento sociale previsto dalle norme anti-Covid. La proposta dello stop alle attività di intrattenimento a predaniedda è stata presentata dall'assessore all'urbanistica Alessandra Corda con il supporto del primo cittadino. In pratica è stata annullata una delibera della precedente giunta sanna che risaliva al gennaio del 2019 e che conteneva norme sulla semplificazione, ma il sindaco Campus ha ritenuto che si fossero allentate troppo le maglie a favore dei centri commerciali. La variante non sarà subito operativa, l'iter per la sua approvazione di almeno un anno, durante il quale dovranno essere presentate eventuali osservazioni, per poi essere approvato in Consiglio regionale e riapprodare in quello comunale per la votazione definitiva. Tra le modifiche previste è la variante di recupero di aree storiche, come le ex Concilie Costa e gli ex Mulini a Sena, per i quali è stato previsto non solo l'intervento pubblico ma anche quello privato. Ieri l'Assemblea di Palazzo Ducale ha approvato invece all'unanimità le riduzioni delle tasse per l'occupazione del suolo pubblico e la sospensione delle scadenze dell'Imu.